Vuoi sapere che cos'è una polizza mista? Bene, te lo dico in due minuti. In genere questa tipologia di polizze sono due cose insieme, quindi una polizza caso morte e una polizza vita intera, insieme. In pratica funziona così. Puoi ricevere una rendita al raggiungimento di una certa età, come allo stesso tempo i beneficiari potrebbero ricevere una certa somma in caso di premiorienza dell'assicurato e allo stesso tempo puoi prendere il capitale in qualsiasi momento a scadenza o anche durante il percorso. Detta così può sembrare non plus ultra perché hai sia caso vita che caso morte, ma non è così. Il ragionamento è questo. Nella classica polizza caso morte, la cifra patuita lo sai dall'inizio, quindi è quella cifra che tu hai pianificato, che deve andare a coprire i tuoi bisogni, quindi eventuali debiti piuttosto che pianificazione finanziaria per la tua moglie, per i tuoi figli, per i tuoi cari. Nella polizza mista il caso morte è funzione dei premi versati, quindi i primi anni il capitale che tu garantisci in caso di premiorienza è molto basso, negli ultimi anni invece sarà più alto, quindi non hai la sicurezza della somma che tu hai in qualche maniera garantito ai tuoi cari. Non sono un amante di questa tipologia di polizza, non voglio dire che non è carne e non è pesce, nel senso che per quanto mi riguarda io voglio sapere qual è la cifra che la mia famiglia riceverà in caso di premiorienza. Allo stesso tempo valutala tu, nel senso hai già una polizza caso morte? Vuoi farti una garanzia per una rendita piuttosto che un capitale? Ti dà questo prodotto anche una cosa accessoria come il caso morte? Ok, è un plus, è un qualcosa in più, mi potrebbe piacere, ti potrebbe piacere, valutala. Ovviamente non la escludo, non mi piace, ma non la escludo, bisogna valutarla.